Oddio, buonasera a tutti, sono distrutto dalle cuffie del computer. Buonasera, sono devastato anche dalla giornata di domande sul mio profilo, è stata veramente piuttosta del solito. La mia psiche ne ha risentito non poco. E comincio a capire quelli che hanno, che giocano sempre su Twitch perché stavo giocando a Minecraft, ho dovuto piantare lì per venire a fare la diretta. Quindi il futuro ci attende anche forse dirette mie su Twitch mentre gioco con Minecraft. No, non credo, però da non escludere. Il massimo che posso fare è giocare con questo mentre faccio la diretta, che almeno gioco con qualcosa. Dunque, questo così mi viene da iniziare con... parlando della cintura, visto che ho ricevuto giusto qualche domanda oggi su come, quando, perché usare la cintura. Da un lato devo ammettere che mi sono un attimo inalberato perché credo sia, come dire, doveroso informarsi su quando usare la cintura, perché usare la cintura. Cioè non devo aspettare di chiedere a uno su Instagram perché devo usare la cintura. È importante saperlo. Quindi ci sono rimasto dell'aver visto così tante domande su... anche semplicemente in che esercizi vada usata. Cioè quello è stato abbastanza traumatizzante, devo ammettere, vedere che non si sapeva in che esercizi si usasse... In che esercizi si usasse la cintura. Dunque... Quando usare questa cacchio di cintura? Su in che esercizi? Sicuramente i principali. Squat, stacco. Cioè non ha senso usare cintura, come ad esempio una domanda, in squat e militari, e chiedersi se usarla nello stacco da terra. Ovviamente è scontato usarla negli esercizi più pesanti. I più pesanti sono squat e stacco da terra, quindi devo usarla in questi esercizi. Poi posso usarla nel military, anche se secondo me ha poco senso sotto certe percentuali, perché non se ne sente proprio il bisogno. Secondo me la si può usare nel rematore, pendley soprattutto. Si può usare in tanti esercizi in cui sicuramente c'è una pressione a livello di schiena, però la base è usarla in squat e stacchi, saperla usare in squat e stacchi. Soprattutto perché se non la so usare in squat e stacchi, poi non la so usare negli altri esercizi. Quindi come si usa questa benedetta cintura? Beh, tolto il come indossarla, ovvero senza togliersi totalmente la capacità di respirare, cosa che vedo che molti fanno, cioè io quando indosso la cintura devo comunque essere in grado di poterci infilare una mano in mezzo, perché altrimenti vuol dire che la pancia non è proprio in grado di espandersi. Il compito della cintura è di trattenere, come dire, le espansioni della pancia per creare questa camera d'aria contro la colonna. Quindi non troppo stretta, vedo cinture messe tipo torture medievali, ma se io metto una cintura così stretta non serve a niente. Quindi prima di tutto stretta sì, ma non eccessivamente. Primo punto. Che percentuali usarla? Allora, sicuramente va utilizzata con un minimo di carico, però secondo me non bisogna aspettare di avere percentuali alte per usarla, cioè è un attrezzo che va usato e imparato ad usare, quindi non è che io metto la cintura solo all'80% e spero che vada bene, cioè io la metto 60, anche 50%, cioè è una cosa che deve darmi compattezza, e meno la uso meno imparo ad usarla. Sono strumenti, le ginocchiere, le fasce per le ginocchia, i polsini, che, i polsini meno in realtà, cintura e ginocchiere vanno messi, per virgolette, il prima possibile, le ginocchiere da subito, però anche la cintura va messa a carichi bassi e poi piano piano, imparo ad usarla, imparo ad usarla, salgo con i carichi e ce l'ho già addosso, cioè non deve essere una cosa che metto quando le hanno necessità, perché non è che c'è una necessità di avere la cintura. Hanno fatto una serie infinita di studi che dimostrano il contrario del classico mito da palestra, ovvero non è vero che mettere la cintura indebolisca il core, anzi se io metto la cintura è stato dimostrato che tutti i muscoli del core, delle gambe, schiena, eccetera, vengono coinvolti di più, perché proprio c'è maggiore stabilità dalla cintura e spingo meglio, recluto meglio. L'unico muscolo che viene reclutato di meno erano gli obliqui, pazienza, reclutiamo meno gli obliqui, ce ne facciamo un paio di side plank in più e abbiamo compensato, però la cintura è importante metterla da subito. E' per questo che io oggi mi sono incazzato oggettivamente a leggere quando uso la cintura, come quando la uso, cioè è importante saperlo, credo sia la base, cioè come faccio a fare squat, come faccio a fare stacco bene se non so quando usare la cintura, quindi usatela la cintura, per favore. O se non la usate documentatevi come dicevo prima, cioè non aspettate che compaia l'occasione per chiederlo a qualcuno su Instagram, cioè va saputo quando usare la cintura, va saputo quando usare i ginocchieri, bisogna sapere quando usare i polsini, cioè è l'attrezzatura base e anche l'unica attrezzatura che c'è, non è che poi si vada oltre, quindi mi raccomando. Skinny fat, come mi comporto? Immagino che si prevedano allenamenti, un po' vaga come domanda. E tornando all'attrezzatura, l'unica, come dicevo sì, che era diversa dagli altri, i polsini, cioè i polsini secondo me vanno messi lì sì davvero quando c'è un effettivo fastidio al polso, perché sotto certi carichi perlomeno non credo se ne sia il bisogno. Fasce per le ginocchia assolutamente no, è come il discorso delle, cioè le fasce per le ginocchia sono una cosa del powerlifting, se non te le sai mettere sono solo un accessorio costoso, cioè le fasce per le ginocchia volendo se le sai stringere in ottica powerlifting attrezzato, solo quelle ti danno, cioè io una tripla circa, sì, una tripla col mio massimale, solo con le fasce ce l'ho fatta. È una questione di saperle mettere, se non le sai mettere non servono a niente, non scaldano, ti tengono compatto il ginocchio, però se vuoi sentire la compattezza ti metti delle ginocchiere, oltre al fatto che ti vanno a falsare il massimale, perché sollevi di più, però sollevi di più perché hai delle fasce, quindi che te ne fai? Ah, se soprattutto devono essere di buon materiale, sì assolutamente, ora, se volete comprare delle cinture entry level, diciamo vi consiglio, almeno io mi sono sempre trovato bene con le RDX, quelle di Amazon, unica cosa non comprate le lever, quelle entry level, perché non sono stabili, cioè io mi ricordo ogni tanto mentre facevo squat mi si apriva la cintura, cioè una cosa che non deve assolutamente succedere, quindi se le comprate di basso costo il materiale non è ovviamente ottimo, però compensa col fatto che davanti si riesca a chiudere bene, se comprate basso costo le lever, no, quindi le lever se proprio le volete lì dovete spenderci. Dunque, vedo un po' di domande, su è lunga, quindi parto da quella corta. Nell'ip thrust che tipo di allenamento consigli? Carichi alti? Poche ripetizioni? Tante serie? O altre combinazioni? No, per l'ip thrust secondo me vale il discorso che ho fatto oggi nel video sul... Mi dà fastidio il maglione, scusate. E dicevo, meglio fare come dicevo oggi sul trapezio, quindi alte ripetizioni, perché il ROM è breve, è decisamente breve, quindi se tu fai alti carichi, cosa è successo? Era partito tutto, ok no, perché ero ancora col 4G e non col Wi-Fi. Dicevo, se tu usi tanti carichi, poche ripetizioni, hai un tut bassissimo, e se hai un tut bassissimo non ci tiri niente di... Secondo me, per quanto faccia usare carichi alti già di suo, quindi tanto vale che ti metti carichi alti, ma fai tante ripetizioni. Cioè, secondo me, per avere un buon tut, almeno 10-12 ripetizioni nel lip thrust vanno fatte. Attualmente ho 78 kg di shoulder press e fatico a farne 100 di panca. Shoulder press macchina o military press? Perché sono cose decisamente diversi. Perché sei tipo 80 kg di military, 100 di panca, praticamente dovresti lanciarli per aria, praticamente perché li fai di push press. Allora decisamente non va qualcosa nella tecnica di panca. Sì, 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 non è possibile. O hai le leve più svantaggiose della terra, o manca veramente qualcosa di... O i 78 kg di military sono falsati, che so, ti dà una spinta di gambe, ma se li fai strict, cioè assolutamente ben fatti, assolutamente non è possibile. Cioè, vuol dire che la tecnica di panca è veramente, veramente da rivedere. Chi allenamento consigli per skinny fat? Che percentuale di macro? Allora, ora tu subirai la mia ira in diretta, perché non ha senso chiedere una percentuale di macro così a cazzo... Non so il tuo livello, non so quanto pesi, non so quanto sei alto, non so il tuo massimale, non so quando ti alleni. Cioè, perché dovrei darti una percentuale di macro? Che serietà potrebbe mai essere? Non ho idea. Oltre al fatto che, boh, anche se avessi tutti i dati, dipende da te in prima persona, non è che in base alla composizione corporea ho una percentuale di macro. Quella fa molto cosa da fisico da spartano, con Henry Cavill, che usa alte carboidrati e pochi grassi, però sono cagate, quindi... Io faccio 100 di panca, ma di military non arrivo neanche a 70, è normale? Assolutamente sì, perché il massimale di military dovrebbe essere intorno a 60% di quello di panca, quindi guadra. Retroversione bacino nello squat? Come correggerla? Stretching, mobilità del bacino, soprattutto stretching dei femorali, per lo più molto spesso, più di quello che si crede, è un problema tecnico, quindi tu magari hai un problema proprio di gestione del bacino sotto carico, quindi magari sei la persona più mobile del mondo, però fai fatica a fare squat, quindi molto spesso è un problema tecnico. Che altro dire? Box squat aiuta molto spesso, e basta, cioè è più una gestione tecnica, cioè molto spesso le persone non pensano a tenere la schiena, a tenere il bacino quando fanno squat, a regalare le gambe, quindi per lo più quel tipo di problema a volte. C'è chi invece ha un bel bacco di legno, e in quel caso sicuramente c'è del gran stretching da fare. Però di solito la combo è bacco di legno più non capacità di far squat, cioè indicativamente se uno è veramente bravo a far squat, per quanto non sia mobile, non retroverte, introverte, non ha quel problema. E c'è molta differenza in forza tra MP libero e al multipower? E no, beh, un conto è spingere un peso stabilizzato su una traiettoria rettilinea, e un conto è spingere un peso libero. Cioè, come dire, multipower, bilanciere, manubri, perché di manubri sollevi così tanto di meno? Perché ogni manubri va per i cazzi suoi, quindi ovvio, quando spingi su una traiettoria definita, è tutta un'altra cosa. Anche se di base... oddio, mi arrivano le notifiche. Anche se di base è sconsigliato, mi trovo così meglio a staccare con le scarpe da squat, piuttosto che a scarpa piatta. Opinioni è sconsigliabile, perché comunque la scarpa con il tacco ti porta avanti il ginocchio. È utile a quelli che fanno pesistica, soprattutto perché poi c'è una fase di accosciata, cioè dopo che tu ti porti il bilanciere al petto, vai giù. Però, se tu devi far solo stacco, ti peggiora di tanto le leve, quindi non lo farei. Almeno, se proprio ti trovi bene, però non... Eviterai. Cioè, puoi fallo. Però se non lo fa nessuno, come dico sempre, ci sarà un motivo. Cioè, come la questione di oggi dei piramidali, che ho sorpreso la gente, perché sono brutti. Cioè, nessuna scuola al mondo perlomeno si basa troppo sui piramidali, poi ci sono le eccezioni, eccetera. Quindi, se non lo fa nessuno, di solito c'è un motivo. Quando arrivo a superare il 70% nello stacco? Non riesco a stare senza cintura. Secondo te dovrei fare un periodo senza? E va bene, ragazzi, però oggi con la cintura volete farmi incazzare. No, scherzo. E... no, tutto il discorsone che ho fatto all'inizio era esattamente questo. Cioè, non è un problema. Cioè, se non riusci a stare senza cintura, non è un problema. Cioè, va benissimo non riuscire a stare senza cintura. Cioè, serve per quello. Non è un... L'unico motivo... L'unica cosa per cui si dovrebbe rafforzare il core è se tu con carichi alti proprio perdi vistosamente la schiena. Però devi rafforzare il core con la cintura. Perché la cintura fa parte di quello che è il tuo setting, diciamo, da massimale. Quindi, è come dire, salto con l'asta, mi trovo male, faccio un periodo senza asta. Cioè, esempio, magari un po' forzatello. Però, il senso è quello. A livello ipertrofico, abbassare una scheda senza esercizi fondamentali è più proficuo? E temo di no, perché altrimenti sarebbero tutti grossi facendo croci e cavi. E l'ip thrust? Lo consiglio inizio seduta al centro come esercizio finale di esercizio? Dipende dal ruolo che ha nella scheda. Cioè, può essere un esercizio fondamentale in una seduta a glutei. Può essere un esercizio da fare dopo lo squat. Può essere un esercizio da fare all'inizio come preattivazione. Cioè, il senso devi darglielo tu. E aveva un 83 americano. È l'eccezione che conferma la regola. C'è un esercizio sulla mobilità. Me lo sono perso. Ah, sì. Militari press con ridotta mobilità in flessione d'omero. Meglio accantonarla momentaneamente e focalizzarsi sulla mobilità. Dipende quanto sia ridotta questa mobilità della spalla. Perché se compensi tantissimo di lombare, quindi comunque riesci a farlo, sì. Cioè, il compenso lombare è da mettere in conto quando fai... Quando fai military press. Se è tanto, se tu chiudi davanti a te, in quel caso sì, evita di fare military press. Quindi considera un attimo quanto è questo problema. Magari puoi fare delle macchine finché non hai la mobilità giusta, eccetera. Quindi non è obbligatorio. Cioè, nessun esercizio è obbligatorio. Quindi cerca di vedere un attimo quanto è questo problema. E questo risposto... Retroversione del bacino e dello squat. Correggere facendo tenere un PVC. A contatto con nuca, dorso e chiappe. Ho capito, sì, che te lo tieni... Sì, può essere... Oddio, lo faccio di rado. Però ci può stare. È uno dei tanti esercizi che si consigliano. Sì, ci sta, è carino come esercizio. Come migliorare la resistenza nella corsa? L'unica volta che ho corso negli ultimi anni è stato per prendere l'autobus, quindi non ti saprei aiutare. La corsa non è decisamente il mio ambito. Anche se sto facendo un corso sul conditioning, quindi magari tra un mese ti saprò rispondere meglio. Allenarsi per tre volte a settimana? È meglio farlo in molto o in mono? Non mi viene in mente cose per cui sia meglio la monofrequenza, quindi... Passo sulla mono... Eh, sulla multi, scusami. Perché quando corro molte volte mi fa male la milza a un fianco? Eh, boh. Ciao. Ti garantisce la schiena dritta? Sì, sì, no, assolutamente. Infatti è un ottimo esercizio quello. Lo faccio di rado perché uso altri metodi, nel senso, ognuno poi ha il suo approccio. Però quello è molto carino. Lo usavo tanto una volta quando lavoravo in palestra. Ora, per praticità uso altre cose, ma non è che sia un problema particolare. Un attimo che stanno arrivando un sacco di cose. Migliore esercizio di forza per i tricipiti oltre la panca, le dip o altra panca. Eh, sì, no, comunque, scherzi a parte, esatto. Non respiri correttamente se ti fa male lì. Military Press. Fermo in partenza, Danny Rep versus Touch and Go. Quando uno o l'altro? Guarda, la risposta in questi casi è sempre alternali che non lo sbagli mai. In ottica Touch and Go, magari ha più senso farla quando fai ipertrofia. Farei fermo se stai lavorando in ottica forza, perché comunque la singola la devi far partire solida dal petto. Però, se vuoi mischiare, di solito va sempre bene. Se ad uno non interessa diventare grosso, ma definire bene il fisico, puoi lavorare sempre dagli 8-12 colpi. Però, se al primo non diventi grosso, cosa definisci? Frecciata. Poi, non ti conosco, però, in linea di massima, difficilmente qualcuno si pone a questo problema. Scusa, col project c'è un programma e un libro con re-running. Da quel che ho capito, sì. Running e alimentazione per il running, se non sbaglio. Sperando di non aver fatto uno spoiler, però credo l'avessero scritto tranquillamente. Una scheda stile Shaco 7 giorni su 7, la puoi creare? Sì, ma che senso allenarsi 7 giorni su 7? Cioè, persino quando ho visto un programma di 16 punk a settimana, che però non è 7 giorni su 7. Cioè, sono tre allenamenti in due o tre giorni, però uno o due giorni di recupero ci sono sempre. Quanto fai un arm of the squad? Come capisci quando fermarti? Quando non vedo più. La sensazione di buffer zero è la stessa in ogni esercizio. Quindi, quando ti fermi in panca, quando ti fermi in stacco, military, eccetera. Secondo te D-Hall è in ipocalorica? Sì, il concetto di ipocalorica di D-Hall credo sia un po' da rivedere. Però, presumendo che stia perdendo peso, sì. Poi magari la sua ipocalorica ha 3.000 calorie. Però, penso di sì. Vediamo se mi sono perso qualcosa. Magari se mi tolgo la luce dalla faccia, ne migliora la mia salute. Ah sì, multifrequenza in pesante e mid-leggero. Come lo vedi? Classico, niente di... Cioè, uno di tanti approcci lo puoi fare o pesante e mid-leggero, sempre che... sempre con i soliti esercizi, ma cambiando range, quindi che so. Panca bassa e ripetizioni, panca 6-8, panca 12-15, o ogni seduta metti, che so, esercizi pesanti, esercizi medi, esercizi leggeri. Quindi una seduta fai panca, una panca manubri, una croci, per dire, o di paccolta libera. Cioè, la puoi gestire in questo modo. Quale è migliore? Non ho ne idea. Non dipende da quello che ti piace fare a te, fondamentalmente dall'obiettivo. Io difficilmente consiglio di fare panca ad altre ripetizioni, oltre le 10, perlomeno, perché diventa veramente... è endurance di vivere veramente, veramente una buona tecnica. Quindi è meglio fare altro ad altre ripetizioni. Una c'espresse, ce la vedo meglio. 3 allenamenti a settimana. Ha senso avere giorni di allenamento alti in carbo e giorni a bassi carboidrati? Prima cosa dipende da come gestisci te gli allenamenti... Scusate, me la paghi per questa domanda. 3 allenamenti a settimana, ok. Dipende da come reagisci te con i carbo alti o carbo bassi. Cioè, c'è chi a carbo bassi si allena tranquillamente, c'è chi a carbo bassi non riesce ad andare in palestra. Quindi ci sta magari fare i carbo alti quando ti alleni, i carbo bassi quando non ti alleni. Cioè, ha più senso tenere i giorni off e i giorni on, e lì gestire i carboidrati in modo diverso. Non farei un po' di allenamenti carbo alti, un po' di allenamenti carbo bassi. Cosa ne pensi dello scotter generante? Giusto. Maledetto. Utilissimo, è vitale, se no. Dopo una giornata di due ore al lavoro, ti metti lì, fai un po' di squat, ti senti rigenerato proprio. Oltre da portal, potresti parlare di Coach Eugene? Eh, fortissimo sto tipo. Lo seguo qua su Instagram. Simpatico, non so il suo metodo di allenamento, sinceramente. Ogni tanto propone qualche variante strana di esercizi che però è forte, però non ti saprei dire, almeno, non ho mai indagato su come lui alleni o cosa faccia. Deve essere venuto in Italia, se non sbaglio, però no, vedo solo ogni tanto quello che pubblica. mi informo, in effetti, perché... Se no, che senso ha che lo seguo, solo perché è simpatico, quindi ci darò un occhio. Quanto è durato lo stretching che ho messo su Instagram? Oggi poco, ho fatto solo due mondi di layman. Un quarto d'ora, venti minuti. Che è di solito la durata media di quando faccio stretching. Massimo venticinque minuti. tendo a fare posizioni di quel tipo perché mi piace almeno stretching in cui piano piano si smolla sempre di più il corpo. Ora, ultimamente, sto avendo l'aggradevole sensazione dell'anca che mi... cioè del femore che vuole entrarmi dentro l'anca, però secondo me è il metodo migliore per fare stretching, cioè mettersi lì e starci. Ma perché se salto mi fa subito male il ginocchio, se squatto pesante non fa male? Boh, devo comprarmi una... una sfera di cristallo per rispondere a queste domande. Oggi ho osato a mettere le vili elastici ad un macchinario per modificare la colpa di resistenza e mi hanno guardato male. Sì, beh, non ti puoi aspettare cose, tanto occhio all'anca, sì, decisamente. È un attimo che comincia a scattare. Interessante, sì, ci sta a fare una cosa di questo tipo ogni tanto. Sei un fisioterapista? No, decisamente no. Non avrei voglia neanche, sinceramente. Il mio stretching di tre minuti non è tanto. No. Cioè, bisogna sempre capire perché si fa stretching. Cioè, nel mio caso lo sto facendo per migliorare la mobilità, perché se no non riesco a fare la verticale in pressa, quindi da fermo. Se tu fai stretching a fine allenamento, tanto per defaticare, tra virgolette, va bene anche fare quei tre minuti, magari un po' poco. Fanno una decina, se proprio vuoi. Però, in tre minuti ci fai un, come dire, un'articolazione, non ci fai certo uno stretching per tutto il corpo. Ho osato fare uno squat sotto il parallelo e mi hanno guardata male. Beh, sì, le palestre sono ricche di una fauna molto particolare. Cioè, non... Si sarebbe... Dovrei scrivere un libro semplicemente su tutte le cose che vedo da ormai dieci anni nelle palestre. Un'altra domanda sulla cintura e io giuro mi lancio dalla finestra in diretta. Sarete... Assisterete al mio suicidio? No, ti lascio a riguardarti l'inizio della diretta, visto che ho parlato dieci minuti della cintura e oggi mi fa triggerare abbastanza questo argomento. Quanto deve variare il carico in panca se facessi sempre la stessa ripetizione ma quando mi fermo il petto? E... Attenzione a quello che dite nelle mie dirette sulle punte delle ginocchia e dei piedi. No, vabbè, dai, ti rispondo giusto perché. La cintura e le pielle... Ok, sì, ci sta. Forse non avevo parlato, guarda. Ti è andata di culo. Sì, assolutamente, qualsiasi sia il tuo livello. Cioè, prima di tutto perché il tuo 60% comunque per la tua struttura è il 60%. Se sei allenato e fai 200, ti peserà in un modo. Questa cosa della cintura è la nuova in cascato, mi sa. Se tu hai 100 di massimale, comunque per te 60 cominciano ad essere pesanti, quindi mettila dal tuo 50-60% qualunque questo sia. Perché, come dicevo, va imparata ad usare. Quindi devi imparare a respirarci dentro, devi imparare a metterla, quindi... Mette a... Posso usare la cintura per fargiare un secco prima di un massimale? Poi motivante, incredibilmente motivante. Tornando a noi. Quanto deve variare il carico in panca se facessi sempre le stesse ripetizioni, ma con il fermo al petto? Cioè, quando tu mi dici, prima la facevi senza fermo e poi hai cominciato a fare fermo. La cintura di che colori la consigli? Tanto che penso all'altra. Ecco, la cintura dipende dal massimale. Quindi se tu hai 140 puoi comprartela. Che so rossa, prima dei 140 si compra rosa, ad esempio. Poi si può passare a blu e via dicendo. Quando finisci? Allora, dipende da quando ricevo la prossima domanda della cintura. Se no, intorno alle 9. Ma dove posizionarla in linea di massima deve coprire l'ombelico. Poi più sotto, più sopra, dipende da come ti trovi comodo a te. Cioè, se la metti troppo alta c'è il rischio che ti vada a far male alle costole. Succede anche questo. Cioè, tu ti inclini troppo, magari pieghi il busto, hai la cintura e ti fai male alle costole. E poi per un bel po' di mesi non la puoi più mettere. Esatto, cintura nera di powerlifting. Eh, potrebbero farlo, sai. Sarebbe incredibilmente motivante a legare. In ipocalorica posso usare la cintura anche se l'ha in cascatto. Basta, domanda definitiva. Ciao a tutti, chiudo. Metodi validi per calcolare il massimale? Che sì, internet c'è di tutto. C'è di tutto perché il massimale non si calcola. Allora, il massimale si fa... Non ha senso fare le... Cioè, lo puoi fare durante una... Tra un test e l'altro. Tipo, fai un test amrap e poi vedi ipoteticamente a quanto monta il tuo massimale. Ma non va usata una formula per sapere il massimale. Se vuoi sapere il tuo massimale, programmi e fai il massimale. Se hai un dorsale più sviluppato dell'altro, cosa mi consigli? Di capire perché. È la prima cosa da fare quando si è asimmetrici. C'è da capire perché tendi più da un lato che dall'altro. Fai gli esercizi male, scogliosi. Fai... Hai avuto degli infortuni. Cioè, ci sono un sacco di motivi per cui puoi essere più sviluppato da un lato che dall'altro. Anche, semplicemente, le inserzioni. Cioè, non è che le persone sono simmetriche. Quindi, può starci. A me ne hai fatto sale di ammonio? No. Mi è bastata l'ammoniaca una volta che tempo ho sbatto per terra. Però le sale di ammonio? No. Ho visto qualcuno che lo faceva anche in gara quando lo facevo io, però non... Oltre un momentaneo istante di follia a cui assistevamo tutti, non penso di anno così tanto. Se non una sveglia... Però ero già abbastanza teso di mio quando facevo le gare con le mie quattro Red Bull pre-gara, quindi non avevo bisogno di sale di ammonio. Posso dare la cintura per il piggio in secco. Ok, tornando... Per il problema pasturale è furbo lavorare su altre ripetizioni per carico? E perché? Cioè, non è che ha vantaggi o svantaggi rispetto all'usare alti carichi e basse ripetizioni. Ah, ok. Sì, questo magari era da precisare l'inizio, non tra parentesi. No, sugli extra rotatori assolutamente sì. Cioè, non è che puoi fare il massimale di extra rotazioni su un fianco. Quindi, di solito, è il modo di approccio base. Sopra le 10, anche perché se vai a usare carichi alti, la prima cosa che fai è compensare in qualche modo. E se vai a compensare facendo gli esercizi per la cuffia, non serve niente. Anzi, c'è il rischio che ti fai ancora più male, quindi eviterei decisamente ripetizioni più basse. Se invece, come ero partito, ti riferivi a esercizi in generale, no, non ci sono vantaggi. Figurati. E tornando su alla panca, con o senza fermo, ipoteticamente c'è un po' di divario tra fare fermo e non fermo. Non dovrebbe cambiarti più di tanto. Cioè, 5 chili? A dir tanto. Buon numero di pistols. E guarda, stavo cercando in questi giorni la... I ranking dei pistol, perché devo metterlo nel libro, non me lo ricordo. Anche perché ora li sto facendo sempre con sovraccarico e non ho visto i ranking corpo libero. Almeno una quindicina, credo. Sia una cosa discreta. Secondo te avrebbe senso inserire le trazioni di powerlifting? Allora, se non sbaglio c'è Poliquin, che ha fatto questa sorta di federazione in cui fai le gare di stacco con trappar, lento avanti e trazioni. E in quel contesto può avere senso, se tu invece... Cioè, io non ce lo vedo, Ray Williams con i suoi esili, 160 chili, a fare una gara di trazioni. Poi per carità c'è anche Saricev che pesa 160, 180, che fa... Mi sembra che non abbia fatto 10, 12 trazioni. Però sono le eccezioni, cioè i pesanti è difficile che lavorino sulle trazioni. Quindi, azzopperesti tre quarti degli atleti. Che già nel powerlifting, secondo me, danno poca importanza alle trazioni. Più, se vai a metterli in un contest, secondo me, perdono tanto. Quindi avrebbe più senso... Cioè, no, per la natura in sé del powerlifting non ha senso, secondo me. Ha senso invece quella cosa di Poliquin, che vuole essere una dimostrazione di forza. Un pochino più generale, cioè... Scusate. Ad esempio, nelle lente avanti, strict, è interessante. Visto la storia dei micro-rom a cui si sta arrivando di panca, contro cui assolutamente non sono, eh. Quindi benvengono i micro-rom. Però contro una prova di quel genere, il lente avanti è sicuramente meglio. Quindi... No. Per quanto io stiamo fando le trazioni, eh. Allora, sta soffocando, quindi se muoio in diretta... Finalmente è sceso al 10% di grasso. Può essere intelligente a sfruttare il periodo per lavorare con carichi pesanti e poche ripetizioni per iniziare a lavorare specificamente? Ebbè, ma i due concetti però sono due rette paralleli. Cioè, non è che se io sono tirato posso usare le basse ripetizioni e curare i punti deboli se sono sopra il 10% o no. Quindi non è che sono due cose che ha senso considerarle insieme. L'unica cosa che posso dire è, forse ha poco senso, andare sui punti carenti a poca ripetizione e carichi alti. Cioè, punti carenti di solito sono anche distretti in mebbia, piccoli. Poi, se tu mi parli di petto o cose così, sì. Però sono lavori da fare in concomitanza con lavori ipertrofici. Sì, esatto, poi c'è il problema del lento avanti e quello, quindi secondo me andrebbe fatto comunque con dei canoni ben definiti. Avrebbe senso farlo, che so, appoggiati dietro una colonna. O davanti, vabbè, la colonna. In modo da avere un limite di inarcamento, come tu fai nelle gare di calisthenics. Cioè, loro hanno un blocco a tot centimetri dei piedi, ad esempio nei muscolap, nelle cose così, per non avere un keeping pazzesco. Quindi ci starebbe anche nel military, cioè, ti metti un muro dietro di te in modo da non inarcare troppo. Sto rallentando sullo stacco. Aumento 5 kg a settimana per 4 volte, poi torni dietro di 3 settimane e così via. Con questa riscendi sto stallando. Può essere utile aumentare una reps e diminuire il peso? No, ha più senso il contrario. Al massimo aumenti il peso e diminuisce la rep. Ho l'infiammazione della spalla e ho deciso di eliminare gli esercizi di spinta e lavorare sulla mobilità della mia spalla per un mese o più. Sto agendo bene o male? Boh, è difficile darti un consiglio, poi se ti fai male è colpa mia. Sicuramente non fare nulla se non cuffia e mobilità, cazzo, è molto limitante. A meno che tu non sia proprio stra-infiammato, cercherai qualche esercizio di tirata, di spinta in cui non andai male. Buonasera Alessio, riscaldamento con bianciere tipo 30 squat, 15 lento, 12 tricipiti, che cazzo è? E beh, ti sei riscaldato tutto, ma non hai riscaldato niente. Cioè, per dire, se devo fare panca, perché devo fare 30 squat? E 12 tricipiti. Così è un... cioè, ti sei bruciato ancora prima di iniziare... cioè, sei pieno, dilattato e quando c'è da spingere, secondo me, sei bruciato già ancora prima di iniziare l'allenamento. Stacco lento come stra-infiammato, lancio nel WL e si vola. Eh, mi piacerebbe fare il weightlifting ogni tanto toccate questo punto debole, però tecnicamente non ho decisamente voglia di mettermici. Sì, no, stavo rileggendo il riscaldamento, però no, consiglio di nuovo, se tu riscaldati per l'esercizio che devi fare, cioè, non ti puoi riscaldare per tutto, perché alla fine ti sei riscaldato per tutto e non ti sei riscaldato per niente. Non è un'infiammazione eccessiva, però provo dolore al deltoide anteriore durante la panca, lenta avanti. Quindi, credo sia una... credo, no, sana, tra virgolette, infiammazione al capolungo del bicipite. Però per dire, magari non ti riesce la panca, 99 su 100 ti riesce la floor press, secondo me. Prova, perché limiti di tanto il rom della spalla e non dovrebbe darti problemi, cioè, quando qualcuno ha mal alla spalla, la prima cosa che faccio è limitare il rom della panca, però tenere la panca. Però questo è quello che faccio io, su quelli che seguo, che so che cos'hanno, quindi non... Possibilmente non ucciderti perché ti ho consigliato questo su una diretta Instagram. Però è uno spunto, cioè, magari limita. Panca manubri, sempre floor, cose di questo tipo. Anche delle croci. Magari delle croci, il carico è talmente basso. Si può lavorare lentamente, cioè, magari ti fa male a determinati carichi. Cali, carichi, aumenti di tanto il tutto e magari non hai problemi. Puoi fare dei pigamenti a terra. Nel senso... A meno che non sia proprio... Cioè, un qualcosa da fare secondo me lo trovi. Un giudizio in generale sul livello del piallo italiano sta crescendo come dice? Rispondi però solo se non triggeri. Stronzo. No, no, no. Sta crescendo. Ma per assoluto, secondo me, sta crescendo e scendendo allo stesso tempo. Cioè, l'altro giorno... Cioè, sta scendendo perché? Perché ci sono tanti appassionati, gente che vuol provare, però va in gara forse ancora un po' troppo acerba. Da un lato, però, se tu non vai mai in gara, non provi cosa si prova ad andare in gara e non gareggi mai. Quindi c'è questa combo. Dal lato c'è molti ragazzi veramente forti. Dall'altro, tanta, tanta, tanta gente. Infatti, quasi tutte le gare sono sempre divise in tre gruppi, il che è tanto. Sul giudizio in generale, ora non è che io controlli poi più di tanto i chili che fanno, soprattutto a livello internazionale. Bisognerebbe vedere poi, appunto, a livello mondiale sempre dove ci classifichiamo. È quello che decide se siamo forti o no. Pareri sul 6x6 di Franco Sala. Un bel programmino, bello pesante, decisamente bello pesante, che è tosto. Cioè, sicuramente se tu ti metti a fare il 6x6 vai a macinare una bella marea di chili, cioè diventi un trattore. Su 3-4 giorni a settimana lo farei, c'è anche la variante su 5, c'è sul mio libro, ma diventa eccessivo. Cioè, quando tu fai un programma così pesante, all'inizio sembra leggero, perché se non sbaglio parte dal 70%. Quindi dici, vabbè dai, lo reggo, però devi ragionare sul fatto che andrai a farlo all'85, 87, 90%. Quindi se tu parti a stecca, quando arrivi alla fine è pesante, ti sei bruciato e quindi c'è il rischio che ti fermi prima. Quindi quando fai i programmi di questo tipo, beh, conservativo, paziente, sapendo che andrai a fare carichi importanti più avanti. Un fenomeno come Angelini ha 100 kg di totale d'Hatwood, ad esempio buttato così a casa. Eh, 100 kg non so se definirvi tanti o pochi. Vabbè, sicuramente Angelini è molto forte, quindi su quello assolutamente niente da dire. 100 kg, beh, se non sbaglio è nell'anno 83, non mi ricordo. Quindi, beh, 100 kg, sono 100 kg. Non sono niente di, almeno, per lui forse, niente di impossibile, però sai, sono tanti. E dunque, 6,90 contro 7,90. Eh, però bisogna vedere anche l'altro cosa combina, è sempre il brutto di queste classifiche. Bisogna vedere l'altro cosa fa nel frattempo. Quanto è al limite l'uno, quanto è al limite l'altro. Ah, meno 74, perfetto, neanche dell'83. Eh, sti cazzi, sono tanti, eh, 6,90 di totale. Quindi, sono veramente tanti. Vediamo se ho risposto a tutto. Intanto, non mi ricordo, penso di sì, non ho lasciato particolari domande indietro. Vediamo. Sì, c'è tutto, ok. Dunque, ancora un quarto d'ora, quindi se avete domande, via libera. Sono tanti chili. Sì, no, stavo pensando però a chi altro mi veniva in mente di powerlifter così, però sì. Tanto ora, lato Vikings, ci pensano loro, io tipo Vikings. No, stavo pensando se mi fosse venuta... Ah sì, sempre per l'infiammazione alla spalla. Lavorare anche in tirata può bastare, nel senso che non è che devi per forza fare esercizi di spinta, però in linea di massima ti consiglio di provare. Cioè, quando c'è un infortunio, stare totalmente fermo, per quello che ho visto io almeno, è sempre un'ottima via per allungare, da un certo punto di vista, i recuperi. Quindi magari fare dello stretching, fare un qualcosa, tenere le articolazioni in movimento, aiuta. Quindi, da un certo punto di vista, se tu alleni le tirate, eccetera, già lo fai. Però, a me, star fermo, anche quando mi bombardavo di terapie, tipo quando avevo le picondilite, antinfiammazioni a stecca, antinfiammatori a stecca, ho migliorato di più quando mi ci allenavo sopra, senza farmi male, che facendo la teca. E allora, sì, solo, perfetto, odio dimenticarmi i nomi delle persone in diretta, quindi mi limito a una ragazza che so fare entrambe le cose, però sulla stessa missione non è facile. Quindi, nel suo caso, è l'eccezione che conferma la regola. Cioè, sono due sport, non dico agli antipodi, però veramente difficili da combinare. Quindi, quando succede, è veramente difficile. Ciao Ale, esistono studi che dimostrino se l'uomo è più portato agli esercizi di spinto o tirata? Oppure la cosa è troppo soggettiva per vedere le leve, tanto diverse da un soggetto e l'altro? Beh, credo che in linea di massima sia molto... Cioè, guardando... La Borgatti, grazie a Dio! Qualcuno me l'ha detto, esatto, la Borgatti. Esistono studi? Sì, e dunque, in linea di massima... Cioè, statistiche alla mano, chili che fai negli esercizi, è più facile tirare che spingere. Tipo, guarda anche gli strongman, alla fine i camion li tirano, non è che li spingono. Quindi, tutte le varie tirate sono forse più... Poi, devi guardare anche, tipo, lo stacco, se tu lo consigli di tirata, no, però... Alla fine, lo stacco una tirata di gambe. Cioè, tu stai tirando una forma di trazione, quindi le tirate sono più forti. Le panca, per quanto forte, non ha... Cioè, i muscoli più grossi sono quelli dietro, sono quelli che tirano. Quelli che spingono sono molto più piccoli, più deboli, secondo me. Cioè, un tettorale contro un gluteo. Nella programmazione di power building, è meglio che la tirata abbia un volume maggiore rispetto alla spinta? E per quale motivo dovrebbe? No, cioè, ha senso se è indietro, i muscoli di tirata sono indietro, se no, no. Cioè, crei squilibri. Non dico che tutti i muscoli vanno allenati con lo stesso volume, però in linea di massima. Anzi, più muscolo è grosso, in teoria, più lo alleni pesante e più allungo recupera. Cioè, difficilmente, secondo me, una gamba ha gli stessi tempi di recupero di un pettorale. Quindi, se tu l'alleni ancora di più, allunghi ancora di più e recuperi. Poi, in linea di massima, stando... Sì, ha senso, spero abbia senso. Stando sullo stesso volume su tutti i gruppi muscolari, tendenzialmente non sbagli mai. Poi ci sta, vedi i muscoli che recuperano di più, vedi i muscoli che recuperano di meno. Quindi, da lì adegui. Però, a priori dire, tirata più volume nella spinta, no. Anche perché, sì, come diceva adesso, sono muscoli più grossi, sono più forti. Quindi, vanno allenati semplicemente in modo diverso, tenendo conto delle caratteristiche del muscolo. Ma non... Dato che alcuni panchisti che spingono... Chi gli suggeriscono di allenare la schiena un po' più rispetto alla panca? Oddio, e chi sono questi panchisti? Anch'io non panchista. Se tu vai a allenare la panca, cioè... Quando facevo gare di panca, era... Ok, che andava allenata la... La spinta... Cioè, la tirata, scusami. Però, più cose fai per la schiena, più ti affaticano, più hai da recuperare. Quindi, sì, allenare la schiena è importante. Ma, addirittura, di più, stanca. Anche perché... Petto ed orso sono entrambi in tre rotatori. Quindi, non è che quando fai trazioni il petto non stia lavorando. Così come quando fai panca non è che la schiena non la vuoi. Quindi, sono cose che si sommano tra loro. Sono fatica che somma fatica. Quindi, se fai tantissima schiena... Secondo me li senti tantissimo... Vabbè, big back, big bench, sì. No, no, assolutamente. Cioè, la schiena è vitale nella panca. Anche solo imparare a reclutare bene i dorsali per aumentare l'arco è vitale. Nella negativa, imparare a contrarre il dorsale, scaricando dal petto e buttando sulla schiena, sul trapezio, eccetera, ti dà tantissimi chili. Però... Cioè, se tu sei capace a far questo, già solo con la panca, non ti dico che sei a posto, però sicuramente... Aiuta. Cioè, a livello muscolare, stai già affaticando. Se i massimali non mi hanno convinto, nel senso che so di poter dare di più, meglio riprovarlo la settimana prossima? E... Se fai questo ragionamento, sei arrivato male al test. Nel senso, il test dovrebbe essere fatto in un momento in cui sei di picco, ipotetico. Se il picco l'hai mancato, era da fare prima, quindi l'hai fatto troppo tardi il test. Se l'hai anticipato, significa che ti sei già bruciato oggi, quindi difficilmente la prossima settimana rendi... rendi come dovresti, quindi magari fai pure peggio. Poi ora dipende da quali siano i tuoi massimali, eccetera. Però non... No, nel senso, un test che va male fa parte del percorso, quindi non è una cosa da escludere. Secondo te, perché di panca piana sono 90 kg e panca inginata non riesco a dare tanto? Eh, boh, nel senso, è normale che di panca inginata al massimale sia più basso che di panca piana. Ciao, Alessia. Ha senso fare l'ostacolo regolare partendo dai blocchi? Essendo alto quasi 1,90, partendo dal movimento, se ho i problemi. Guarda, quando mi dicono questo, cito sempre il buon Thor Bjornsson che dai suoi due metri passa a 400 di stacco da terra. Non sei sicuramente vantaggiato, però non usiamola neanche come scusa eccessiva. quindi, poi non è che vengo in palestra a frustarti se fai stacco dei blocchi, però a linea di massima esempi di gente veramente grossa che fa, veramente alta, e anche veramente grossa, che stacca parecchio, ce n'è, quindi tipo costanti, 9,90, mi sembra. Il problema di questa cosa è che tu devi, cioè, riman, perché intanto mi si disconnette, ok, sono tornato, fai in tempo a fare una domanda, si, tranquillo. A proposito di blocchi, il pendle dei blocchi se sei proprio rigido, che nel tuo caso non è da escludere, Nicolò, quindi potrebbe anche essere un'idea usare dei piccoli blocchi. Non massimale, panca piana, 5x5. Carichi e tendini? Di che cosa? Sì, no, esatto, un poco di blocco ci sta nel pendle nel momento in cui tu partendo da terra perdi la lombare, quindi nel pendle bisognerebbe sempre tenere la lombare. Tornando alla gente alta, cioè il problema non è tanto quanto sei alto e quanto pesi, nel senso il buon tor pesa 100... Credo che piccino pesi solo 180 kg, ho visto una foto in cui dicevo di pesare 180 kg, quindi alle leve belle piene, ovvio che se tu sei alto 1,90 e pesi 70 kg, cose che vedo in palestra, mi preoccuperei, allora sì, fai magari dei blocchi e riempi le leve, in quel caso ci può stare fare stacco dei blocchi, però con l'obiettivo di fare stacco da terra e fai in tempo a fare domanda sì, ho detto di sì, dunque, 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 no, comunque non riuscire a caricare tanto di pancacchinata è normale. Quanto ci hai messo di scrivere un libro? Beh, se sommiamo tutto dieci anni, perché sono partito dal primo articolo del blog e poi ho rileverato tutto nel concreto ci ho messo due anni o qualcosa perché sono partito da Natale 2014 se non sbaglio e il libro è stato pubblicato nel 2000 Natale 2013 scusa e il libro è stato pubblicato nel 2016 quindi era Natale quindi con il 2014 2015 due anni o qualcosa due anni molto lunghi soprattutto perché a metà mi si è cancellato ma quella è tipo una storia da papà castoro che racconterò più avanti Quanto ci hai messo di scrivere un libro? Ho già appena risposto scusate sto cominciando a cedere credi che dopo anni della tesura del libro esso possa essere integrato con altro di importante scoperto di recente? Guarda di importante scoperto no sicuramente farò faremo perché devo riscriverla con il project certamente devo fare una seconda edizione come tutti i libri vanno aggiornati però voglio aggiornare semplicemente il modo in cui sono scritti certi capitoli aggiungere delle cose parlare di qualche metodo in più ma non niente di nuovo cioè non c'è niente di nuovo che cambi le cose che ci sono scritte per il semplice fatto che secondo me è già stato scoperto tutto cioè la storia del buffer basso si sapeva già cioè sono tutti studi che alla fine si scorpano sempre le stesse cose a meno che non si scopra che la panca sviluppi i polpacci quelle sono le cose importanti da dire grazie volevo chiederti un paio di consigli sullo squat faccio fatica un assurdo quando mi spinta su proprio il parallelo chiudo facile cosa può essere il quadricipiti da checca la chiusura lì si ti molla il gluteo quindi rimani sui quadricipiti la parte più quad dominant quindi ma non ti dico quadricipiti da checca però il punto è deboli i quadricipiti quindi magari ti conviene lavorare sul front squat ad esempio collaboro ancora con road training la certificazione valida beh non è che ci abbia mai collaborato pubblicavano dei miei articoli anche se una volta ho fatto un'ora di lezione alla loro certificazione no devo ammettere che dopo anni di italiana è la certificazione che ho preferito in ambito forza però l'ho fatta otto anni fa sono cambiati i docenti sono cambiato un sacco di cose però mi era piaciuta veramente tanto cioè il corso più bello che ho fatto grazie per la risposta sono abbastanza rigido e sto provando con esercizi di mobilità dell'anca stretching ma i risultati lascio a desiderare hai qualche consiglio in particolare? persevera e purtroppo è la cosa che si prende meno in considerazione che ne parlavo in questi giorni con un ragazzo che seguo che tutto va considerato in anni capisco che su Instagram faccia fico vedere il primo e dopo di 4 settimane però le persone normali ragionano su mesi e anni quindi continuare oddio mancano 2 minuti e un sacco di domande sprint core debole credi possa essere causato in stalla di un stacchista sumo? possibile perché se hai il core debole ti pieghi quando sollevi e se ti pieghi sotto il peso non lo riesci a sollevare quindi possibile Ale su quanti fondamentali è intelligente fare delle progressioni serie in contemporanea secondo la tua esperienza? ah beh volendole puoi fare anche su tutti cioè puoi fare lento dip trazioni cioè ogni esercizio è la sua cioè nelle gare di powerlifting fai squat panca stacco però se il tuo obiettivo è più ampio squat panca stacco trazioni eccetera è normale che il giorno dopo lo stacco percepisco dorsali affaticati? sì assolutamente perché se non lavorassero i dorsali ti si strapperebbero le braccia dal corpo un'altra domanda quando provo ad allenare i polpacci tutti? quanti polpacci hai? ah tutti gli istruttori ok dice che non mi cresceranno mai perché costituzioni che consigli? eh boh ora non so che costituzioni tu abbia sicuramente il polpaccio è un muscolo sfigato il mio consiglio è che se vuoi farlo crescere per far dispetto all'istruttore tantissimo tantissimo volume quindi prima dicevo di usare un equilibrio tra i gruppi muscolari sicuramente nei polpacci vai tranquillamente sul doppio di volume degli altri muscoli così come stai su o tanti carichi ma in generale alte 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 ripetizioni perché fanno breve rom sono un muscolo forte quindi devi andarlo a stressare per assurdo una cosa che mi causa sempre dei doms allucinanti è tipo il salto della corta monolaterale tipo 70 ripetizioni da un lato 70 ripetizioni dall'altro carino cioè ti fai anche un po' di cardio per quanto si possa far cardio però è uno stimolo diverso però i polpacci nel senso tanto volume tanta frequenza e poi li usi per schiaffeggiare l'istruttore poi ovvio ognuno ha un limite genetico per i polpacci molto più che degli altri muscoli perché veramente non a caso è il muscolo più preso per il culo da tutti in quest'ambito però più pesante vai più possibilità da quando fai cardio o da quando mi hanno regalato guarda solo qua da quando mi ha regalato la la king's box la corda devo ammettere che mi piace corda pazzesca tra l'altro c'ero abituato con la corda da decathlon da 5 euro quella corda lì è fantastica infatti poi ci farò una recensione perché devo ammettere che la king's box ha veramente della bella della bella roba siamo quasi al limite direi della diretta quindi tra poco vi saluto grazie come sempre buona serata buona serata a te stavolta la salvo ce la farò ce la farò salvarla ragazzi è la prima cosa che faccio è cliccare su salva stasera non ci casco e la pubblico su youtube no mi piace un sacco in realtà la corda mi è sempre piaciuta perché non ho voglia di fare i cardi in generale quindi dovevano proprio forzarmi ok siamo alla fine grazie a tutti i ragazzi mi ha sollevato questa diretta dopo tutte quelle domande sulla cintura ho ritrovato fiducia nell'umanità ci vediamo mercoledì prossimo e pubblico tutto su youtube stasera ce la faccio quindi buona serata a tutti